E' tempo di bilanci per la CNA di Pesero Urbino che per oggi, venerdì 28 dicembre, ha organizzato nella città ducale un incontro per fare il punto sull'economia nel nostro territorio e sulle prospettive per il 2019. Sono due motivi fondamentali per cui oggi siamo qui. Il primo è che l'associazione da tempo ha capito l'importanza dell'entroterra, di quanto l'entroterra abbia problematiche notevoli rispetto alle aziende, soprattutto alle aziende della costa, il riferimento alle infrastrutture immediato è subito evidente, ci sono delle difficoltà enormi e quindi noi abbiamo deciso che tutto questo grande patrimonio, il valore che esprime l'entroterra andasse riconosciuto non soltanto portando qui le nostre migliori iniziative ma anche presentazioni e conferenze stampe come questo perché è un momento in cui noi vogliamo dare forte il sentore che la CNA è vicino a tutte le imprese ma soprattutto in questo momento a quelle dell'entroterra. Poi il secondo motivo è che è con grande orgoglio che siamo proprio qui perché da un'amicizia 25 annale tra me e uno dei soci del CONAD è nata questa grande partnership, questa possibilità di fare insieme delle cose con il CONAD Montefeltro che è aderito alla nostra associazione e noi con grande orgoglio volevamo oggi dare risonanza a questo momento, a questi giovani perché sono cinque soci, sono dei ragazzi intraprendenti, bravi che hanno incarnato quello che è lo spirito che noi vogliamo all'interno della nostra associazione. Ci pareva giusto quindi festeggiare insieme questa nuova parte e si può farlo nel loro punto vendita qui nell'entroterra perché racchiudeva un po' tutto quello di cui vi ho parlato prima. Questo è il motivo per cui oggi siamo qui e do subito la parola al nostro Presidente Alberto Barilari perché ci faccia un quadro un po' della situazione economica e i dati che il nostro Centro Studiale Marche ha elaborato. Grazie Moreno, buongiorno. Io mi unisco a Moreno nel ringraziamento del Maxi Conat qui di Urbino adducendo anche un'altra motivazione per il quale siamo qua ed è quella che la CNA naturalmente sta lavorando e si impegna anche per sostenere il settore del commercio che anche quest'anno ha visto perdere posizioni. Sappiamo quanto sia difficile questo mondo in questo momento in cui il commercio online sta dilagando, in cui le grandi attività sommergono le piccole attività che noi rappresentiamo spesso e quindi questo è un altro dei motivi per cui siamo qua oggi ringraziando ancora i soci del Maxi Conat. Veniamo da un anno difficile, difficile perché? Perché ancora è un anno che vive una coda di problematiche che ci portiamo da dieci anni, sembra che questo periodo non debba mai finire, sembra che questa rimodulazione e trasformazione dell'economia non finisca mai. Anche quest'anno purtroppo vediamo diminuire di un 1,4% il numero delle imprese a livello provinciale, con una sofferenza particolare nelle costruzioni, una sofferenza particolare nella manifattura, nel commercio, come poc'anzi ho detto, quindi nei settori tradizionali che sempre hanno fatto il traino della nostra economia, che sono stati soppiantati in parte dalla new economy, da quell'economia crescente di servizio, nuova, start-up d'impresa, ma che non la compensano in ogni caso, non riescono a compensarla e quindi una parte di questa economia che arriva, che è nuova, stenta a compensare quello che si perde. Tant'è vero che la nostra provincia ancora fa peggio, in qualche maniera, della media regionale. Presidente, consueto appuntamento di fine anno della CNA, qual è stata la situazione? Questa crisi ha mollato la presa? Buongiorno innanzitutto e grazie di essere presente alla nostra conferenza stampa. La crisi, se così si vuole chiamare, lascia degli strascichi ancora e abbiamo un problema in provincia che è denotato dal calo delle imprese, ancora una volta, se vogliamo anche più marcato dell'anno scorso. Quindi un quadro di incertezza assoluta. Speravamo onestamente di poter andare oltre questa situazione, ma riteniamo che alcuni fattori incidano malamente, negativamente, su questo risultato della nostra provincia, che è un risultato in chiaro-scuro, non è tutto negativo. Abbiamo l'export che va molto bene, va. Però l'economia, diciamo, basata sulle nostre piccole imprese, soffre perché abbiamo un calo anche nelle imprese manufatturiere, abbiamo un calo nelle imprese delle costruzioni, abbiamo un calo nelle imprese del commercio, marcato. Parliamo di meno 1,4% nell'anno appena passato e quindi ci lascia un po' così, pensierosi questa cosa, ma pensierosi fino a un certo punto perché se guardiamo il contesto in cui le nostre aziende operano in questo momento, in un contesto nazionale e internazionale, nel quanto incerto, capiamo anche perché queste performance non arrivano. L'economia vuole stabilità, certezze, vuole tranquillità e osu dire che sia a livello nazionale per le politiche espresse anche dall'ultimo governo, sia dai frangenti internazionali che sono dovuti a protezionismi di ritorno, terrorismo, altri avvenimenti che non lasciano tranquilli sia i cittadini che gli imprenditori, naturalmente questo è il risultato poi, abbiamo una stagnazione. La situazione occupazionale invece? La situazione occupazionale è una situazione stagnante anch'essa, registriamo un 9% di disoccupazione a livello provinciale che però si distingue in positivo rispetto alla media regionale, diciamo che è un tasso di disoccupazione che ci si aspetta in una situazione di questo tipo, che però la cosa che ci lascia più interdetti è l'incertezza che vediamo per il 2019 insomma. Oggi avete scelto il CONAD come punto d'incontro, come mai questa scelta? Le motivazioni sono diverse, innanzitutto il CONAD qui di Urbino è il nostro associato e come nostra prassi degli ultimi anni noi abbiamo sempre privilegiato i nostri associati per fare queste conferenze stampe di fine anno, quest'anno un'altra delle motivazioni sono che l'associazione sta cominciando a reinvestire nell'entroterra, dopo un po' di anni in cui abbiamo dovuto un pochino concentrarci su altre questioni, stiamo tornando nell'entroterra a pieno titolo e anche per dare un segnale a un settore che è in difficoltà come il commercio e quindi vogliamo con questa nostra iniziativa prendere e riunire tutte queste motivazioni, quindi siamo lieti di essere qui, CONAD che ringraziamo naturalmente per l'ottima ospitalità di cui siamo stati oggetto e andiamo avanti. Il nostro declino della nostra provincia, lento e inesorabile, non è un declino che nasce a caso, da un momento all'altro in una provincia ricca diventiamo tutti somari e i dati sono negativi, no, ci sono delle ragioni strutturali che vanno analizzate e che ce ne ha da tanti anni, io dico in uno spaventoso silenzio perché fa grande rumore quando chiude una grande azienda ma quando migliaia e migliaia di piccoli imprenditori chiudono c'è un silenzio assordante che a me imbarazza, che infastidisce, noi invece devo dire la verità, la bandiera in alta dell'attenzione sotto questi argomenti l'abbiamo sempre avuta, non è un caso, io dico è una disgrazia che a livello nazionale siamo stati costretti come associazione ad aprire due grandi osservatori permanenti, uno riguarda la tassazione e uno riguarda la burocrazia, non so qual è peggio da iniziare prima, iniziamo con la tassazione che è quello più storicamente datato per quello che riguarda la nostra associazione, beh fare imprenditoria a Pesaro piuttosto che a Orbino piuttosto che in un'altra città dovrebbe essere il nostro paese la stessa cosa, in realtà non è così perché dai nostri studi, insomma la nostra provincia mica ne esce tanto bene, su 137 comuni che abbiamo studiato a livello nazionale Pesaro è il 97esimo ma non è in giù, Urbino è un po' meglio il 85esimo, però in generale la nostra provincia si lavora fino al 16 agosto per pagare le tasse con un'incidenza sul fatturato dei nostri imprenditori che è quasi il 63%, cioè chiedere questo a un imprenditore è certamente togliergli quella linfa necessaria per fare investimenti e per poter produrre ricchezza, lavoro, poi ci chiediamo perché la gente non assume, non abbia queste certezze per il futuro, la burocrazia se possibile va anche peggio, 52 sono state le province analizzate dal nostro centro studi, ovviamente con 50 capoluoghi di provincia all'interno del quale anche la CNA di Pesaro Urbino ha dato il suo contributo rispetto a questi dati, i dati che sono usciti, abbiamo preso 5 tipologie di aziende molto normali, un bar, un salone di acconciatura, autoriparazione, gelateria, niente di che, aziende che sono tipiche del nostro territorio e che hanno quel fatturato e quei dipendenti tipici nella media del nostro territorio, quello che è uscito è imbarassante, cioè noi soltanto di burocrazia facciamo spendere alle aziende per aprire un'attività da 14 a 20 mila euro, i giorni di attesa per avere tutte le autorizzazioni vanno da 29 a 60, ma gli addempimenti, se ci va bene ne dobbiamo fare solo 65, se siamo disgraziati perché vogliamo aprire un'autofficina di autoriparazione, 86 addempimenti, il che vuol dire che se siamo fortunati dobbiamo rivolgerci solo a 26 uffici, a 26 entri coinvolti, se siamo invece un po' più sfortunati addirittura a 30. Tutto questo nel complesso fa sì che una provincia come la nostra, in cui ogni 9 cittadini c'è un imprenditore, quindi grande spirito imprenditoriale, abbia delle notevoli difficoltà ad intercettare eventualmente una crescita o la possibilità di un rilancio. Perché? Perché strutturalmente abbiamo perso negli anni tutto quello che era il nostro vantaggio competitivo. Segretario, quali sono i dati relativi ai primi tre trimestri dell'anno? Allora, i dati relativi ai primi tre trimestri dell'anno purtroppo vedono un lento declino della nostra provincia che purtroppo, io dico, da locomotiva della nostra regione a livello economico è diventato il fanalino di coda. Un lento e inesorabile declino che da un lato ci preoccupa molto perché sono ormai diversi anni che noi lanciamo gridi dell'allarme in un paese in cui la tassazione è arrivata quasi al 62%, in cui la burocrazia incide a livello economico in maniera imbarazzante, in cui non si investe sulle infrastrutture, in cui non c'è credito per le imprese. Tutto questo rende il fare impresa molto difficile e porta a questi dati. Però non voglio vedere il bicchiere mezzo vuoto. Chi dirige un'associazione come la CNA, la più grande della provincia, la più importante voglio dire della provincia, deve avere dentro di sé insito dell'ottimismo. E voglio vedere il bicchiere mezzo pieno perché ci sono comunque dei dati, soprattutto relativi alle esportazioni e al settore della meccanica che ci stanno dando ragione. Dico così perché da anni stiamo lavorando sulla cultura imprenditoriale di internazionalizzazione per le imprese, stiamo facendo progetti e formazione ai nostri imprenditori. E questi dati che ormai vedono costantemente la provincia di Pesero Urbino all'altezza della situazione, capofile nelle marche, per quello che riguarda le esporti non sono casuali. Bisogna lavorare su questo filone, bisogna incentivare le aziende che esportano perché non è vero che il mercato poi è solo per loro, perché dopo rientra a casa tutto l'indotto. Noi abbiamo diversi casi di persone che prendono anche insieme degli appalti all'estero e poi fanno le lavorazioni, le fanno fare tutto all'interno del nostro indotto nella nostra provincia. È un momento importante perché il mercato interno purtroppo è ancora fermo e quindi quello che chiediamo con forza alle istituzioni è di mettere al centro della gente il problema dell'impresa, perché noi creiamo lavoro, benessere e creiamo anche pace sociale. Se non si capisce questo l'Italia avrà grossi problemi in futuro. Quali sono invece i settori in calo? I settori in calo sono tutti i settori, diciamo così, manifatturieri maturi. Abbiamo il legno, il terzile, che hanno delle difficoltà perché ormai il mercato globale gli ha imposto delle mutazioni enormi, quindi chi ha resistito riesce a avere mercato, ma moltissimi, soprattutto contro terzisti, hanno grandissimi problemi o hanno dovuto chiudere. Quindi un problema fondamentale questo perché le aziende che aprono sono aziende che non hanno la stessa struttura di quelle importanti che chiudono, sono aziende di giovani spesso che provano con pochi mezzi a subaffare gli imprenditori, ma la struttura fondamentale, quella che ci ha tenuto in vita in questi anni, cioè il manifatturiero è molto molto in crisi. Fortuna è una meccanica, è diventato di gran lunga il primo, senza discussioni, settore della nostra provincia. Ha tenuto, grazie anche alle grandi capacità di fare innovazione tecnologica e formazione continua a un livello addirittura mondiale e soprattutto queste sono le imprese che hanno saputo sia lavorare nel mercato interno, ma soprattutto esportare con successo. Io ringrazio il Presidente e ringrazio soprattutto Moreno per aver scelto questa di sede. Io e Moreno eravamo compagni di squadra, forse è stata questa la fortuna, eravamo compagni di squadra perché se eravamo contro sicuro, oggi non eravamo qua perché avevamo litigato sicuro. Quindi questo è di calcio, di calcio, di urbino. Quindi io quello che mi sento di dire è vero, ci sono state tante problematiche, ma abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di voi, cioè abbiamo bisogno di voi perché noi molte volte andiamo nei negozi alla mattina alle sei e torniamo a casa alle sei alle otto, giustamente come un attigiano di prima non avevo voglia di mettere l'insegna, è vero. Sono cambiati i modi di fare commercio, soprattutto qua in questa zona urbino secondo me, assolutamente sì, perché dal 2014 a oggi hanno aperto forse tre punti vendita nuovi, Urbino, Eurospin, Coop, Economy, ma io sono contento e sono contento di aver fatto la scelta che ho fatto perché è quello che ci fa migliorare, crescere e la voglia di fare nostra perché se ci fossimo stati ancora solamente noi, noi eravamo morti, eravamo piatti e non dobbiamo essere perché quello che noi dobbiamo offrire al nostro cliente e quello che offriamo nei nostri negozi è quello, è il servizio. Giuseppe lei è uno dei soci di questo MaxiConad, Moltefiltro che fra l'altro oggi ospita la conferenza di fine anno della CNA di Pesaro Urbino, ma qual è il vostro rapporto con la Confederazione? Diciamo che è la fine anno della CNA, ma è per noi un inizio perché oggi sigilliamo il cominciare un rapporto con loro e quindi questo è il nostro futuro, in questo momento sarà CNA. Ecco come sta andando il vostro settore, insomma diceva che avete anche tanti dipendenti. Sì, il nostro settore dal punto di vista di questo punto 20, quindi di Urbino, abbiamo un po' di più problematiche, nel senso comunque è stata una zona colpita fra terremoto, fra crisi e un po' più problematiche, fra concorrenza che ha aumentato negli ultimi 4 anni di smisura perché dal 2014 a oggi hanno aperto COP, Eurospin, Economy e quindi stiamo cercando di tenere botta a questo e in più abbiamo investito su un altro territorio che è Pesaro e che fortunatamente ci sta dando grandi risposte, tant'è vero che i nostri dipendenti che prima erano 80, adesso sono 155, quindi tutto quello che si fa cerchiamo comunque di farlo per noi ma anche per i nostri dipendenti. Guardate un po' il futuro con speranza. Assolutamente sì, anzi penso che noi dobbiamo guardarlo a non avere 155 ma avviene 200, 250, questo deve essere come dobbiamo vedere nel futuro, poi le vie del Signore sono infinite quindi noi possiamo saperlo, quello che succede domani. iscriviti al canale